Un pulmino scolastico con a bordo tre bambini e una accompagnatrice, a causa di un probabile malore da parte dell'autista, è uscita di strada poco prima della rotonda d'innesto su via Spalazzi. È successo a Casal Borsetti, in via del Maone, alle ore 8.35. I bambini, probabilmente diretti alla scuola elementare di Porto Corsini, sono rimasti illesi, mentre l'accompagnatrice è rimasta ferita a causa del parziale rovesciamento del pulmino ed è stata caricata da una delle ambulanze giunte sul posto insieme all'elicottero, visto che l'autista è parso subito grave. Inutili i tentativi di rianimazione del personale, i rilievi sono condotti dalla polizia municipale, presenti sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.